Se il coronavirus ci ha colto di sorpresa, potevamo forse gestirlo meglio e essere più pronti, ma sicuramente non evitarlo, come sarà l'Italia dopo il Covid-19 dipenderà da noi. Sarà solo una nostra responsabilità. Fatemi fare una prima rapida riflessione. Non cerchiamo di tornare come era prima. Prima, innanzitutto perché, diciamocelo, l'Italia del pre-Covid non era certo un paese che funzionava bene. Secondo tema è naturalmente che il contesto è profondamente cambiato. Le condizioni al contorno saranno completamente diverse da quelle da cui proveniamo. Che cosa è cambiato? È cambiato tutto. È cambiato il nostro modo di lavorare, il nostro modo di studiare. Sono cambiato il nostro modo di muoverci, di essere cittadino, di essere turista. È cambiato il modo di essere globale per l'individuo e per un paese. E quindi cambiano i comportamenti, cambiano quindi le esigenze associate a questi comportamenti e nascono opportunità per trovare soluzioni a queste esigenze. Soluzione di nuovi prodotti, di nuovi processi, di nuovi servizi. Servirà creatività e innovazione. L'Europa sta mettendo in campo un imponente piano di risorse, di risorse economiche e di risorse normative e chiederà agli stati membri di essere coraggiosi in una pianificazione di importanti interventi strutturali. Da dove partire? Questa crisi ci ha minato come persone, ha minato tutte le nostre relazioni sociali. E quindi bisogna rimettere al centro la persona, riavere come primo obiettivo la qualità della vita. E quindi garantiamo il lavoro. Partiamo da garantire il lavoro in uno sviluppo sostenibile e in uno sviluppo inclusivo. Garantiamo il diritto allo studio. Non possiamo lasciare nulla indietro, nessuno indietro. Non possiamo permettercelo. Dobbiamo puntare su tutto quello che sono la formazione, la scuola e l'università come strumento per un ascensore sociale di cui abbiamo sempre più bisogno. Rinnoviamo i nostri spazi, le nostre città, le nostre scuole, le nostre università, i nostri territori, trasporti e infrastrutture. Supportiamo l'impresa. Dall'impresa si può creare lavoro. Sto pensando di supportare tutta la parte di responsabilità sociale delle grandi corporate fino alla creatività e l'innovazione delle nuove start-up. E infine un profondo cambiamento del pubblico. Un pubblico che diventi veramente motore al servizio dei propri territori, non preoccupandosi della copertura giuridica delle proprie azioni, ma dell'efficacia e della tempestività degli interventi. Sì, perché il fattore tempo sarà determinante. Sbagliare oggi su questo fattore vuol dire trovarsi in un'Europa cambiata molto più distanti di tutti gli altri Stati membri. Torniamo quindi al messaggio iniziale. Coraggio e velocità delle azioni saranno gli ingredienti per cambiare l'Italia del futuro.